eccoci qui ragazzi eccoci qui allora 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 c'è tanto da dire oggi perché quest'oggi la Roma ha veramente secondo me è una partita una delle peggiori della stagione allora il prossimo che mi dice che questa squadra se fa 3-2-3 vittorie consecutive può ambire a un posto Champions lo gambizzo ragazzi lo gambizzo perché questa squadra non è da Champions League questa squadra deve imparare deve imparare a lottare tutte le partite cosa che non fa non fa perché come al solito ritorniamo sempre agli stessi discorsi come al solito dopo ogni cazzo di sosta per le nazionali sta squadra entra in campo senza i coglioni senza palle senza idee senza grinta senza determinazione senza cattiveria ci sia mi sono rotto i coglioni di questo atteggiamento superficiale io non ho capito questi giocatori in testa che cazzo ci hanno in testa pensano che il Genova che pur essendo una squadra tecnicamente inferiore venga a Roma a regalarti la partita venga a Roma a regalarti la partita e ha fatti vincere tranquillamente senza nessun problema allora le squadre che si devono salvare nel girone di ritorno giocano con il cortello tra i denti e giocano con un'intensità e una cattiveria che non mettono neanche le squadre che lottano per lo scudetto se questo la Roma non lo capisce non lo capisce perché oggi il Genova ha corso tre volte di più della Roma tre volte di più della Roma tu non otterrai mai un cazzo di risultato e sarai da settimo ottavo posto perché non affronti le partite con la giusta concentrazione con la giusta determinazione con la voglia di far bene con la voglia di fare subito risultato cioè la Roma oggi è stata inguardabile come lo è stata in tante altre partite l'atteggiamento è stato un atteggiamento veramente indecente la prima mezz'ora sembravano che ti stavano facendo un favore a giocare a pallone passaggi sbagliati poca concentrazione poca intensità trottavano tutti per il campo non abbiamo fatto un'azione un tiro in porta il Genova che pur è scarso tecnicamente nella prima mezz'ora ha tenuto benissimo il campo e non ci ha fatto giocare arrivavano sempre primi sul pallone perché erano più determinati più cattivi avevano una condizione fisica io non riesco a capire se sta squadra è anche un problema fisico perché soltanto noi abbiamo i giocatori che trottano per il campo cioè io oggi ho visto dei calciatori che trottavano per il campo e avevano delle facce spente che non ho capito come cazzo può essere cioè oggi Casdrop morto che cammina oltre al fatto che non riesce a crossare neanche un cross decente neanche sotto tortura o Ileveira e Metal Knights che erano stati i migliori nelle ultime due partite anche oggi si sono spenti e soprattutto sono stati infatti sostituiti e quello ci ha anche dato ulteriori problemi perché se due dei giocatori migliori delle ultime due partite la terza partita stanno addormentati come gli altri è chiaro che vai in grossa difficoltà in grossa difficoltà Cristante che è in mezzo al campo io non ho capito forse Veretù sta in condizioni peggio suoi perché porca troia è lento da morire non puoi far giocare a Cristante in un centrocampo a due dove deve essere lui a fare interdizione a cuore e a rincore gli avversari non ha le caratteristiche non ha le caratteristiche è lento da morire Cristo Santo Abram oggi non pervenuto lotta, cuore quello che vi pare ma oggi veramente insufficiente si sono dati da fare soltanto allora per me il migliore in campo oggi è Ibanez che non ha sbagliato niente Smalling subito dopo Mancini è il solito irritante, scarso che deve fare nella solita ammunizione del cazzo tutte le partite e ogni volta che è più ammunizione deve protestare sta sempre lì a strattonare maglie cavoli vari e protesta sempre e marotti i coglioni e abbiamo stato pure a pensare che questo gli vogliamo far rinnovare il contratto con l'ingaggio di toccata in alto e sta cosa a me veramente non la capisco Mkhitaryan è andato al corrente alternata anche se forse è l'unico che ci ha provato l'unico poi che comunque si prende sempre la responsabilità di fare qualche dribbli di fare qualche iniziativa che aveva trovato anche il gol alla fine con un'azione strepitosa personale e Zagnolo che poi la stampa e le radio dicono che è egoista e cazzi vari era l'unico che ci prova sempre ragazzi pur sbagliando ma non me ne frega un cazzo è l'unico che ci prova dall'inizio alla fine fermo restando che il gol è da annullare obiettivamente ragazzi il gol è da annullare perché lì effettivamente Abram entra a martello sulla caviglia del difensore l'ammunizione pure è giusta non mi fate senti gente che comincia a dice hanno rubato la partita quello non è un fallo del gioco cazzi e massi chi dice che quello non è fallo non è obiettivo e vuoi fare soltanto il tifoso basta basta cioè noi abbiamo giocato gli ultimi dieci minuti del primo tempo dove comunque Sirico non è che abbia fatto queste grandissime parate un tiro su punizione di Oliverian un altro di Mkhitaryan ma niente di che e abbiamo giocato dal cinquantacinquesimo al settantesimo quando praticamente Murini ha fatto i cambi sono stati a Fena Young e il Ciarabic hanno dato obiettivamente una scossa ma per dieci minuti io non riesco a capire a Fena Young fa butta fuori ostica del Genova quindi settantesimo tu fai in dieci contro undici è lì che devi spingere che devi essere più determinato più cattivo la Roma si è adagiata non si riesce a capire il motivo perché non è che stai a vincere tre a zero cazzo cioè in dieci contro undici non abbiamo fatto un cazzo di tiro in porta un cazzo di tiro in porta ci abbiamo avuto soltanto un'unica grandissima occasione che è quella di Smalling da testa che noi poi come al solito le occasioni che ci abbiamo non le sfruttiamo perché è pure quella di Zagnolo al centro dell'aria che tira in culo la luna ma lì Smalling io non ho capito come cazzo ha fatto a sbagliare tu metti dalla porta solo e poi non ci possiamo lamentare attaccare l'arbitro di su cazzi e mazzi raga basta sta squadra non ha un'identità non ha un'anima certe partite in certi frangenti succede sempre questo sempre questo ogni volta che si torna dalle pause come dopo l'Atalanta vinci 4-1 a Bergamo e fai una partita di merda in casa con la Sampdoria ma è mai possibile che questa squadra non riesci a vincere tre partite d'eseguito Cristo Santo abbiamo dei giocatori che sono modesti ragazzi perché oggi certi giocatori erano impresentabili perché comunque non lottiamo non lottiamo il Genova oggi che è una squadra ripeto tecnicamente molto inferiore alla Roma ma fisicamente ci ha sovrastato su tutti i contrasti su tutte le azioni non hanno tirato mai in porta ok su quello sono d'accordo con voi ma Sirico non mi dite che ha fatto delle parate glamorose perché ne ha fatte 3-4 abbastanza normali a noi ci manca la lucidità la convinzione la cattiveria di portare a casa queste partite cioè il Genova ha preso 45 gol ragazzi noi non siamo riusciti a fargliene uno in 95 minuti e in 11 contro 10 in 25 minuti ma vi pare accettabile questa cosa vi pare accettabile per me non è accettabile comunque abbiamo capito che quest'anno la stagione sarà così alti e bassi e poche soddisfazioni perché abbiamo un atteggiamento che non è non è accettabile non è accettabile e io ragazzi mi sono rotto il cazzo perché io le partite le voglio vincere le voglio le posso anche accettare di perdere di pareggiarle ma non in questa maniera a me mi dà il cazzo quando la squadra non dà tutto in campo oggi anche ripeto Oliveira Made and Niles addormentati ragazzi così non si va da nessuna parte così si arrivano settimi ottavi ed è meglio non andare neanche in conference perché non è non è non è una soddisfazione cioè noi dobbiamo fare il quarto con l'Inter giocando così cioè raga io sinceramente era un'occasione per fare la terza vittoria consecutiva che non ci capitava da inizio campionato potevamo comunque rimanere attaccate al treno Europa League per cercare di approfittare magari visto che adesso ci abbiamo Verona Sassuolo e Spezia qualche inciampo delle squadre sopra potremmo trovare continuità convinzione nei nostri mezzi niente come al solito buttiamo sempre tutto nel cesso ragazzi basta perché l'avvelenamento oggi è proprio clamoroso ci vediamo domani per la per la live con michi yellow red domani sera e iscrivetevi al canale se volete insultate insultate tutti se volete non me ne frega niente commentate che vi rispondo non me ne frega niente